E' forse vero che The Sims 4 è un gioco pieno di emozioni? In questo video creeremo i personaggi di Inside Out in The Sims 4. Inside Out è un film d'animazione della Disney Pixar, di cui è uscito il seguito recentemente, e un film d'animazione delle emozioni, per eccellenza. Benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, è uscito da poco Inside Out 2, e io ancora non ho avuto la fortuna di vederlo, perché qui da me esce soltanto tra dieci giorni. Però ho rivisto da poco Inside Out 1, e mi è subito presa la voglia di ricreare i personaggi principali, quindi come sarebbero le emozioni di Inside Out in The Sims 4. Questa sarà quindi la prima parte, e appena riuscirò a vedere Inside Out 2, aspettatevi la seconda parte. Questi sono i personaggi di Inside Out. Se non l'avete visto ancora, ve lo consiglio. E' molto bello. E' molto bello, è fatto bene. E' visto da adulti, quindi con un'esperienza di vita alle spalle, prende sicuramente in un altro modo, quindi è molto intenso in realtà. Ma, banda le change. Passiamo subito a The Sims 4. Allora, siamo nel CAS. Chiaramente abbiamo Raleigh, Joy, Disgusto, Sadness, Tristezza, Rabbia e Paura. Quindi vedremo questi sei personaggi. Iniziamo subito da Raleigh, che è una bambina, ai tempi di Inside Out 1. Nome Raleigh Anderson. Allora, partiamo dal colore della pelle. Allora, sappiamo che Raleigh è tipo svedese, quindi comunque ha una carnagione molto chiara. Poi è molto magrolina, ha gli occhi grandi, grandi e tondi. Ok, ok. E il viso tondo anche. Gli occhi sono tipo blu, scuro. Comunque è bionda. Allora, vediamo, un taglio medio. È biondina, però forse c'è qualche sfumatura di castano. Verrà, lei si è diventata cinquantena all'improvviso. Questo è quello più indicato. Ora, vediamo un attimo le sopracciglia. Ok, comunque sono occhi tondi e da cartone animato. Quindi ci può stare il naso, ci può stare anche. Le labbra sono un po' più sottili in realtà. Vediamo se possiamo mettere i denti. C'è un piccolo spazietto. Ora, abbigliamento. Di solito indossa una felpa gialla. Vediamo se c'è qualcosa di simile. Ecco, una felpina semplice così. E dei pantaloni marroni. Ah, forse è meglio questo, un jeans. E le scarpe abbiamo le converse rosse. Forse il colorito è un po' più rosa. Ecco, forse è meglio così. Forse le sopracciglia è un po' più sottili. Ok, forse ci sta più così, di più. Ok, Raleigh. Quindi, come tratto? Ovviamente è instabile. Questi sim possono parlare fra sé e avere emozioni imprevedibili. È praticamente la trama del film. E per l'ambizione, io direi ambizione motoria. Visto che è un amante dell'okie. Magari più che spazietto, qualcosa così. Per indicare la crescita, più che altro. Perché non è proprio lo spazietto genetico. Perfetto. Ora, passiamo alle emozioni. Allora, saranno tutte adulte. O giovani adulti, ecco. Partiamo da Gioi. Gioi o gioia. Allora, anche lei ha un viso tondo. È un po' sul giallino come colore. Saranno sim un po' particolari. Ecco, questi sono i capelli. Sopracciglia in realtà non è che ne abbia. Quindi qualcosa di proprio sottile, sottile. Ecco, qualcosa così. Gli occhi sono proprio blu, celesti. Però sono come quelli di Raleigh a palla, ovviamente. È anche ravvicinati e tondi. Andiamo se riusciamo a farli più tondi. Chiaramente questa è l'espressione naturale di Gioi. E il naso è un po' a palla. Un po' più su, un po' più piccolino. Denti normali. Trucco. Magari soltanto un semplice eyeliner di contorno. Ma magari qualcosa di blu. E il labbra è molto sul rosa. Ok. È magrissima, tra l'altro. Ora, un abito verde. A noi serve un abito semplicissimo. Dovrebbe anche essere verde acido. Magari ci aggiungiamo come colore il giallo. Certo, se avesse dei dettagli sarebbe migliore. Anche, cioè, questo è vero che è verde, però può anche essere giallo. Secondo me questo merita di più. Ed è scalza. Anche se c'ha dei capelli un po' tipo mossi. Alcuni ce l'ha tipo in movimento. No, servono dei capelli sulla fronte. C'è l'imbarazzo e la scelta. Secondo me questi vincono. Perfetto. Allora, come tratti? Abbiamo Allegra Ovviamente Buona Generosa Come ambizione Specialista dell'autoterapia Cioè, come descrizione così è perfetto. Ok Avanti il prossimo. Allora, abbiamo Tristezza Quindi Sadness Ok, partiamo da te. Allora Innanzitutto cambiamo il colore Che è Blu Ok Diciamo Un fisico Che riflette Sadness Allora La forma delle sopracciglia Deve cambiare Perché Hanno proprio la forma All'insù Quindi Vediamo un attimo Allora Gli occhi Sono vicini Come al solito E rotondi Ora L'ingrandiremo Il naso A pella E anche in questo caso Gli occhi Sono Celesti Anche se è più scuro Le sopracciglia Sa un po' di Sadness Questo Sono blu E questi sono più sottili Di così Perfetto Allora Ingrandiamo gli occhi No Ok Ora i capelli Ci distraggono un po' E lei E proprio lei Mancano gli occhiali Sono Tondeggianti Direi questi Allora Ora Abbigliamento Serve un maglioncino Ma lei Ma già lei C'è anche il collo così Jeans Scuri E niente scarpe Ok Quindi Tratti Pessimista Ignorate le pose Socialmente a disagio E io direi anche un po' goffa E come Ambizione Vuole Essere amica E anche Sadness E' andata Poi Andiamo con Anger E rabbia Che è rosso Questo Sarà difficile Questo già rosso Ci dà un po' l'idea Corpo Colore E' proprio rosso E' come capelli Mettiamo rosso Anche così Capiamo bene Qualcosa proprio di corto Raso raso Ecco così Anche se la faccia è proprio Un po' quadrata Anche in questo caso Gli occhi sono molto vicini Però hanno una forma un po' diversa Rispetto agli altri Sono meno tondi E me lo immagino con le sopracciglia Tutte così Allora andiamo nei dettagli Il naso in realtà Non c'è Quindi Lo faccio un piccolino Gli occhi sono grandi Ma sono leggermente Incurvati Come se fossero un po' Rettangoli Non so perché me lo immaginavo Anziano Anche gli occhi sono rossi Comunque I denti Sono un po' tutti Forme strane Ecco Ecco sì Allora serve Una camicia bianca Con la cravatta Con qualche dettaglio rosso È una cosa molto specifica Me ne rendo conto Non proprio No mi sa che è l'unica Questa Quella che si avvicina un po' di più Pantaloni con Con una cinta Lui ha le scarpe Ah ok Eccolo qua Colore Marrone Ah ok Eccoli qui Perfetto E scarpe Qualcosa del genere Va bene Sarai tu Però non puoi sorridere Anche senza barba in realtà Non ha neanche le orecchie Però Va bene Ok Andiamo ai tratti Allora Testa calda Io direi ambizioso anche E anche un po' instabile E come Ambizione Mettiamo Vuole essere migliore Providare a 5 stelle Ok Avanti il prossimo Fear Quindi paura In realtà Ci siamo anche Se molto longilineo Facciamo anche più longilineo Proprio magrissimo Qui si è un po' violetto Un po' così Diciamo più cadaverico Così Allora Togliamo il cappello Allora Ha un naso Lunghissimo Ecco così Il naso ci può stare I capelli I capelli Un capello Tipo così O così Lui ha la faccia Lui ha la faccia lunga E stretta Le sopracciglia Sono giganti E un po' in movimento Anche E' impossibile Rendere il movimento Delle sopracciglia E' un po' impaurito Così E gli occhietti Invece sono piccoli 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 Forse un po' troppo piccoli Ah così Ecco almeno così Anche questi sono rotondi Espressione di paura c'è però Sono sul grigio Ok Però niente barba Secondo me così ci può stare Ora lì E' un papillon Vallo a trovare un papillon Dove lo trovi? E' un tipo di indumento Molto particolare Così sembra un cameriere però Questo secondo me Può andare già di più I pantaloni sono un po' Plissittati Ecco così possiamo fare E le scarpe Sono le scarpe da Vestito formale in realtà Certo col papillon Sarebbe stato tutta un'altra cosa però Forse così Stile bibliotecario Allora Quanti tratti Il nostro fear Sarà paranoico Anche un po' pessimista Perfezionista Quanto all'ambizione Conoscenza Cervello nerd Ora Ultimo Abbiamo Disgusto Allora Partiamo dal colore Poi Poi tipo di corpo Piccolina Di qua Ai fianchi Un po' più grandi Allora I capelli Sono verdi Anche Medi Lisci Questo potrebbe Andare Sono un po' All'insù Le punte Vanno un po' Pic All'insù Però Questo anche potrebbe Andare Non forse mi piace più questo Allora Lei ha le sopracciglia Chi l'avrebbe mai detta Sono molto sottili E hanno questa forma Più sottili Questi Poi La forma del viso Tondo Il nostro piccolino In realtà Allora Vediamo un attimo Qui Intanto le labbra Sono più sottili E sono Ecco Un po' Gli occhi Sono Come al solito Molto rotondi Le pupille Sono un po' Più piccole Sembra un po' Disgustata Poi Lei ha le ciglia Ha le ciglia Verdi Non pensavo Che le avremmo mai Utilizzate In vita nostra Queste ciglia verdi Quindi Tenete Sempre Tutti Che non si sa mai Che possano Servire un giorno Questo ci può stare Anche le guance È ovvio Che ha le guance Solo che Ha anche il blush Sulle guance Ora Per il vestito Allora Verda C'è anche Questa specie Di ocular Non lo troveremo mai Questo è quello Che si avvicina Di più Questo è un asciugamano Questo Potrebbe essere Anche una valida Alternativa Vediamo se c'è Tipo Una collana Veramente Molto 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 Tirata Come cosa Forse Forse Questo ci sta meglio Rende Di più L'idea Che non Quello E lei Ha le scarpe Oh Ha anche Dei leggings E ha delle ballerine Leggings verdi Ecco Perfetto E delle ballerine Potrebbero essere Questi Vediamo se ce ne sono Altre Eccola Meglio di così Possiamo Sono Aperte dietro Però Queste anche Possono andare Sono più semplici Addirittura Sto Confrontando Le ballerine Su The Sims 4 Dove sono andata A finire Ok Questo ci sta meglio Vanno verso l'alto Wow Cioè Abbiamo finito Ah no Mancano i tratti Schifiltosa Eccola Ecco Proprio lei Dal film È anche un po' Un genio Nel senso che È molto attenta Un po' snob Anche È la visione Super genitrice Bene Ora abbiamo Ufficialmente finito Ecco Raleigh Anderson E tutte le emozioni Che vivono Nella sua testa Gioia Tristezza Rabbia Paura E disgusto Ecco a voi I personaggi principali Di Inside Out 1 Ci vediamo Nel prossimo episodio Per vedere insieme Inside Out 2 Chissà come saranno Saranno anche cresciuti Sarà interessante Allora Alla prossima Bella gente Chissà come